martedì 4 agosto si continua con il festival della teologia secondo appuntamento questa sera sempre alle ore 21 vito gli ospiti e poi come sarà strutturato il programma beh ieri abbiamo trattato della donna nell'antico testamento oggi trattiamo della donna per eccellenza del nuovo testamento che è maria quindi la professoressa all'orella parente una bravissima teologa che abbiamo già conosciuto l'anno scorso all'interno del festival ci racconterà questa straordinaria figura avremo quindi anche questa sera a medio giornano che ci accompagnerà con un intermezzo musicale poi avremo un momento di di teatro quindi grazie a giovanna bagnara direttrice di punto famiglia ci sarà un'introduzione alla seconda parte della serata e poi con il commento teologico di don carlo pisani enrico giuliano interpreterà la preghiera alla vergine che tutti noi conosciamo nel paradiso di dante alighieri quindi la preghiera alla vergine che è uno dei momenti più belli della divina commedia e naturalmente anche quello un omaggio naturalmente alla figura di maria ma soprattutto un momento anche di di arte di teatro grazie proprio all'interpretazione di enrico giuliano grazie a tutti